Sacra America è un modo per rappresentare un paese che è sacro e profano allo stesso tempo, è un modo per indicare un percorso di sacralità interno a noi stessi che diventa profano quando abbiamo a che fare con la vita. È un romanzo che parla del viaggio interiore, parla della ricerca di un amore o un'illusione d'amore ed ha a che fare con la vita, con la vita vera, con la letteratura, ha a che fare con le delusioni, ha a che fare con la malinconia, con la solitudine. Il bilancio è sicuramente positivo, è un'esperienza molto piacevole. Questo binomio tra cultura, letteratura, storie narrate e vino è un binomio che funziona molto bene. Poi nel territorio c'è cultura, nel vino c'è tradizione, c'è cultura, quindi legare questa esperienza millenaria con la letteratura, con la narrazione è stata una bellissima idea, è funzionato molto bene. Ritengo che abbiamo fatto una bella scelta insieme a Conti Zecca perché ad un certo punto abbiamo unito la cultura, ai libri, a quello che è poi anche il buon vino e quindi i prodotti gastronomici di questa terra ed è stato un connubio vincente a mio parere. Venire qui, in questa cantina, sono arrivato con la macchina e mi sono detto ecco io sto a casa mia perché io col vino è come se fossi a casa. Grazie per la visione!